Ciao a tutti e benvenuti in questo secondo video tutorial dove parleremo di nitidezza e di riduzione del rumore digitale Allora, importiamo subito una nostra foto per fare una prova Dunque, partiamo dalla riduzione del rumore digitale Che cos'è il rumore digitale? Innanzitutto dovete sapere che ogni pixel del sensore contiene un diodo fotosensibile che converte la luce in un segnale elettrico che a sua volta viene elaborato e convertito nel valore cromatico dello stesso pixel dell'immagine finale Cosa vuol dire? Che più la luce che entra nel sensore sarà forte, quindi in pieno giorno o con il sole e minore sarà il lavoro di conversione che il sensore deve fare dalla luce vera e propria a questa informazione che poi va nell'immagine finale Quindi, quando ci sarà poca luce, quando sarà sera, quando sarà notte la luce che sarà minore verrà convertita dal sensore di più, maggiormente e quindi ecco qui che entra in gioco il rumore digitale Più piccolo è il sensore e più sarà il rumore introdotto perché maggiore è stata la conversione Vedi bene il sensore delle piccole fotocamere digitali, dei cellulari e così via Allora, questa foto l'ho presa volutamente fatta da un iPhone 5S per enfatizzare il rumore ed enfatizzare il lavoro che noi andremo a svolgere Allora, sviluppo Ecco qua Come potete vedere, da qualsiasi livello di zoom, si nota abbastanza bene che la foto è molto rovinata è molto sgranata Diciamo che una sgranatura del genere con una Nikon D3002 si potrebbe arrivare a ottenere con 800 ISO forse anche di più Comunque, andiamo ad effettuare la nostra riduzione del rumore Andiamo qua Luminanza Come potete vedere già a dare un luminanza basso il rumore sensibilmente sparisce a dare un luminanza massimo il rumore del tutto sparisce ma perdiamo anche il dettaglio della nostra foto Come facciamo a togliere il rumore e mantenere il nostro dettaglio? Aumentando i dettagli e aumentando il contrasto al massimo Aumentando tutto a 100 abbiamo una foto diciamo accettabile per un cellulare ma non accettabile dal punto di vista più professionale e di una reflex Per aumentare ancora la qualità della nostra foto dobbiamo cercare il giusto compromesso di luminanza tra 0 e 100 Diciamo che deve far sparire il rumore ma non deve far perdere il dettaglio In questa foto che è molto rumorosa diciamo che un 50 potrebbe andare bene Ok Questo è il sistema numero 1 Si usa solo Lightroom, è molto facile, ci vuole un secondo ed è il sistema più diffuso Ora vi farò vedere come io tolgo rumore dalle foto Allora andiamo a togliere completamente la luminanza Abbiamo la nostra foto base senza alcuna regolazione Clicchiamo il tasto destro sulla miniatura qua in basso Modifica in Define 2 Che è un programmino della Nik Software Questi programmi lavorano a stretto contatto con Lightroom Come vedete io dall'interno di Lightroom ho avviato il programma Non c'è alcun problema Appena avviato il programma lui fa una lettura automatica Legge che qui nel rosso c'è un po' di rumore Qui nel giallo c'è un po' di rumore Qui nello sfondo nero c'è ancora del rumore E qua c'è del rumore Non in tutte le parti dell'immagine il rumore è uguale Nella parte più colpita dalla luce il rumore è minore Nella parte più in ombra il rumore logicamente sarà maggiore Quindi lui fa quest'analisi per capire dove agire maggiormente E dove invece serve un intervento minore Fatta questa misurazione che viene effettuata completamente in automatico Clicchiamo riduci Ok? Lui già di base lascia questi due valori al 100% Va già bene perché qua nel lentino in bassa destra Possiamo vedere come era prima e come dopo Come vedete il rumore è sensibilmente diminuito Volendo se ancora non ci basta Possiamo aumentare questi valori fino a 200% Ho già fatto mille test Anche se li mettiamo a 200% Con questo programma il lavoro è migliore che mettere la luminanza di Lightroom a 100% Perché questo programma vi mantiene comunque il dettaglio massimo della foto Guardate che differenza Qua nella maniglia, qua nel nero, nel rosso Poi alcuni colori sgranano molto più di altri Come il rosso, come il giallo, l'arancione, il verde Sono colori tremendi E il rumore su questi colori si nota molto di più Ecco qua Una volta regolato il nostro rumore al valore diciamo che preferiamo Su foto scattate con reflex io consiglio un 100% Su foto veramente rovinate come quelle fatte dai cellulari Si può andare anche a 200% Anche perché comunque non hanno quella profondità d'immagine Quella nitidezza che invece hanno le foto scattate con reflex Comunque sia che si tratta di un jpeg Sia che si tratta di un raw scattato da una macchinetta Scattato da una macchina semiprofessionale Non importa Il procedimento è questo Salva Facciamo salva Caricherà un attimo E ci andrà a creare una copia virtuale della nostra immagine Qua nel nostro catalogo di Lightroom Come vedete c'è l'immagine originale di prima E c'è l'immagine modifica Vedete la rinomina qui Con il nostro lavoro che abbiamo fatto con Define Questo è secondo me il metodo migliore per eliminare il rumore Poi mi saprete dire anche voi Benissimo A questo punto abbiamo parlato del rumore digitale Di cosa provoca Di come toglierlo Parliamo della nitidezza Allora perché ho cambiato foto? Perché la nitidezza in una foto scattata male Da un telefono o comunque una foto non perfettamente a fuoco O una foto problematica Dove già partiamo male è inutile cercare di aumentare la nitidezza Per questa cosa ci vuole assolutamente una foto scattata nitida Senza problemi senza rumore eccetera eccetera Allora andiamo a modificare la nitidezza di questa immagine Eccolo qua il nostro pannello Abbiamo quattro valori Questo qua è il fattore nitidezza Praticamente non fa altro che aumentare o diminuire la nostra nitidezza globale Il raggio e i dettagli In default sono impostati a 1 e a 25 Io vi spiegherò come funzionano Però vi consiglio di non spostarli mai Io personalmente non li sposto mai Li lascio sempre così Perché sono in un giusto compromesso Se li aumenti o li diminuisci Secondo me rovini l'immagine La mascheratura Come precedentemente abbiamo parlato anche di altri valori Bisogna tenere premuto il tasto alto della tastiera E con il tasto sinistro del mouse Andiamo a spostare questa levetta Come vedete si crea una maschera sull'immagine Che ci fa capire le zone dove la nostra nitidezza andrà ad interagire Se la lasciamo a zero è tutto bianco Perché significa che il programma effettuerà una nitidezza su tutta l'immagine Cosa che assolutamente per me è da evitare Bisogna anche qui cercare un giusto compromesso Per delineare le parti della foto che più vogliamo siano nitide Di certo non vogliamo che sia nitida la parte della pelle Del viso della persona Quella parte lì deve essere liscia Nitidezza nella bocca, nei denti, negli occhi, nelle sopracciglia Nei capelli, nelle zone dove vogliamo accentuarla Diciamo che questa maschera a noi ci va benissimo Andando a fare uno zoom Possiamo vedere dove effettivamente andrà a lavorare il programma Si vede molto qua nei capelli Proviamo a fare uno zoom maggiore Ecco qua Vedete come cambia? Erano quasi fuori fuoco Se proprio vogliamo andare a vedere Vedete che aumentando la differenza è notevole Ora, lasciarla a zero? No Ma neanche metterla al massimo Anche qui sta molto all'occhio del fotografo È una cosa molto soggettiva Quanto vogliamo aumentare la nostra nitidezza Io direi che la mascheratura l'abbiamo regolata Quando ci diamo una nitidezza di 56-58 va benissimo Così era prima e così è adesso Certo, la nitidezza non è come la luminanza Non fa i miracoli Però una foto che già parte bene Possiamo migliorarla ancora di più Allora, vi spiegherò brevemente Giusto per farvelo sapere Cosa servono questi due valori Allora, come possiamo vedere in questo lentino Dove va a vedere proprio lo zoom Di dove siamo a lavorare Aumentando il raggio Abbiamo una nitidezza più impastata Se lo diminuiamo il raggio è più piccolo Come posso spiegarvelo meglio? Diciamo che lavora di più Se aumentiamo il raggio Tende a rovinarla un po' Tende a impastarla A rendere un effetto innaturale Ecco, così lo vediamo meglio Vedete? Spero che nel monitor si capisca di più Se la mettiamo al massimo Il raggio, i pixel Sembrano quasi più grandi Non va bene Se invece la teniamo al minimo Anche qua abbiamo un effetto inverso Diciamo che va tenuta qua E i dettagli Invece come possiamo vedere Andrà ad aumentare una grana Alla nostra immagine Che decisamente sta male Quindi questi due valori Secondo me vanno lasciati qua Va regolato il fattore principale E la mascheratura Questa era la nitidezza Spero anche in questo video tutorial Di esservi stato utile Di essere stato chiaro Ci vediamo nel prossimo episodio Ciao